In questa prima linee, in questa prima linee, la conversa che si va dal centro della pista, andiamo davanti tutti! Come verranno fuori i vestiti dotti, e i balzecchi davanti a tutti, e i balzecchi davanti a tutti, e i balzecchi davanti a tutti i vestiti dotti, e i balzecchi dotti, andiamo al centro della pista, Come va? Perchè? Vieni a fare un'altra parte? Come va? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.